ciao ragazzi ben ritrovati sul canale qui cappello di paglia oggi in collaborazione con magic corner abbiamo da aprire tre maximum gold e il dorado ovviamente uno dei set più attesi di quest'anno dopo i team del 2021 e vabbè lì c'era veramente tanta roba ma vabbè detto questo vi ricordo come sempre che col codice sconto cappello 10 potete ottenere un 10 per cento di sconto su carte singole o prodotto sigillato che non è soggetto ad altre offerte fatta la marchetta io adesso andrei a spacchettare allora ragazzi cosa trovare in questo set già lo sappiamo perché sono usciti gli spoiler ho fatto il video anteprima quindi i nostri obiettivi di oggi sono come sempre access code verte extravagance invocation la dragonzella golden lord unicorn con artwork alternativo cioè diciamo che pul buoni ce ne sono e speriamo di trovarli ma detto questo andiamo subito ad aprire il primo poi per gli altri andrò molto più veloce andiamo con i primi quattro pacchetti e vediamo se access code è qua dentro che attualmente è la carta più ricercata e costosa di questo set allora parto subito dicendo che il nostro amico luca gaming tonight ha sbustato poca roba quindi diciamo che la roba buona potrebbe essere nei miei vedremo spettralice il pazzo signore dorato e come gold la chimera frammento ottima carta anche questa ottima ristampa considerando che stava sui 20 euro ed era una super e poi come ultima ho visto link subito mese sono illuminati gli occhi ma invece solo la piprice molto carina come mazzo è molto bello però non è forte peccato è così un archetipo un po abbandonato a se stesso allora secondo pack abbiamo ex codificatore trasmittente muro numeron cannone ferroviario miaomu ragazzi dirichini domestico pachicefalosauro fossile adesso c'ho il 2 per e vediamo come ultima turmini gemelli gold carina anche di magia poteva uscirmi extravagance ma ok ci posso stare bellissimi quei caparetti col bordino dorato molto belli e poi abbiamo anche mostro e suscitato censurato ci sta molto bello terzo pack vediamo se almeno un box mi darà una gioia che per adesso non è andato benissimo allora numero 3 richiamo numeron falco finale altra carta che non aveva mai avuto di stampe kiri 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 spettralici il pazzo signore o finalmente gamma che mi serviva ottimo molto carino gold ci sta fantastico e come ultima numero c mille qua su zexal hanno sparato sempre più grossa adesso vedremo fino a che punto vorranno arrivare niente mi sa la collezione di numeri non finirà mai quella di toda no la mia ovviamente e andiamo con l'ultimo pacchetto abbiamo treno pallottola super espresso antico mantello drago frammento guardiano della terra dorata congegno sei verso e come gold lila posseduto dal famiglio che sbocco e per ultimo dai una magia che culo di merda o c'ho il 2 per adesso adesso se punta la terza vediamo se porterà meglio il secondo dai bene ho aperto gli altri due e vediamo se qua dentro c'è rimasto qualcosa ci siamo giocati tutta la fortuna con la giara sarebbe un po un peccato perché comunque è un set buono e mi sembra strano non sbustare niente in tre confezioni soprattutto perché gaming tonight ha sbustato poche roba allora abbiamo multi impostore mondo perduto tela meteorologica pandemonio ragazzi berichini eva rose dai 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 allora se qui di nuovo quel link di merda pittrice donna scan potrebbe anche essere anche verte comunque overte o access code o la pittrice no è l'unicorno credo sì però stavolta normale senza artwork alternativo peccato almeno mi poteva da quell'altro era molto tamarro e figo vabbè vabbè è solo il primo pack è magia allora pittrice meteorologica pioggia drago frammento aria tra codificatore a usa dragonzella camera finalmente o non ne uscivano le queste non ne uscivano nelle gold bene perfetto e l'ultima no è l'invocazione ottima carta o volevo la giara però chi sono io per dire di no a questa carta che comunque ha mantenuto il suo bel valore pensavo fosse molto più semplice da trovare invece tipo mi sembra 11 euro sta giù di lì e poi anche avere un bel reparto invoked da giocare in shadow non sarebbe male considerando che ce l'ho quasi tutto in americano allora abbiamo numero 9 sfera daison pittrice pioggia limite di vocazione eva guardiano della terra dorata drago metallico scuro occhi rossi e vediamo come ultima è magia dai dammi la magia buona dai 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 libro della luna no 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 che coglioni che due palle c'è 6.000 magie buone il book of money viene da e magia anche questa porca è finita numero c1 numero 2 a usa cavaliere kagemucha ottima carta poi aria la testa di exodia l'ha sbustata pure luca è la seconda che c'ho non me la da va bene rituale del caos numeron pacchetto un po un po di merda ma va bene diciamo che la testa dexodia c'ha ancora un po di valore quindi ci posso stare numero 3 molto impostore antico mantello codificatore ragazzi bilichini e oviraptor mangiata anima vabbè e numero c1000 ma che ci faccio con sti numeri basta non è più il tempo di andare in spiaggia e truffare i bambini con le carte numero ormai non vanno più di moda allora è rimasti tre pack vediamo vediamo tela meteorologica cannone ferroviario codificatore trasmittente lamp spasso romulus un meciaba ottima ristampa per invocation che questa stava a 12 e la mia secret probabilmente si è svalutata not stonks cioè sono contento d'averci la seconda però not stonks e poi come ultima dai mascherena con artwork alternativo ostia molto bella adesso devo scegliere se gioca questa o l'altra sarà difficile da scegliere perché anche questa c'ha il suo perché però l'altra è secret da mp quindi è da valutare penultimo pack vediamo se questo andrà meglio no mi sono spoilerato l'ultima la pittrice di merda ma che coglioni tela meteorologica poi arcidemone baby cefalo vita romulus oviraptor e la pittrice no no che merda che merda dai ma datemi un link decente a cesco datemi allora vediamo l'ultimo non voglio spoiler stavolta allora abbiamo arcidemone drago rosso rovente numero 4 demone della maestà ottima ristampa drago nero con la serpente cavaliere kagemucha ma basta queste teste d'exodia hanno fatto gold solo la testa almeno potevate fa tutto il corpo andiamo malissimo andiamo malissimo trisciola porca io in tutto speravo tranne che in trisciola e niente raga allora che dire forse avevo delle aspettative troppo alte considerando quanto avevo fatto schifo all'anteprima quindi diciamo che sì non è andata malissimo alla fine la mia extravagance me la son portata a casa adesso è da trovare la terza detto questo ragazzi vi ricordo come sempre di nuovo il codice sconto cappello 10 per i vostri acquisti di yuki per carte singole e prodotto sigillato quindi ragazzi state mesi e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video ciao a tutti